Ehi Barbie, posso venire da te stasera? Certo, non ho grandi programmi, sono un gigantesco mega party con tutte le Barbie, con coreografia preparata e una canzone scritta apposta. Che cool. Hai il giorno più bello di tutti. Lo è davvero come lo era ieri, lo sarà domani e ogni giorno da oggi e per sempre. Sì! Avete mai pensato di morire? Sono successe cose che forse sono correlate. La doccia fredda, sono caduta dal tetto e ho i talloni piatti a terra. Piedi, piatti! Che cosa devo fare? Devi andare nel mondo reale. Puoi tornare alla tua vita normale o puoi conoscere la verità sull'universo. La scelta sta a te. La prima, i tacchi alti. Devi volerla conoscere, ok? E riprova. Closer I am fine. Closer I am fine. Vengo con te. Ok. Wow! È il mondo reale! Che cosa succede? Perché quegli uomini mi guardano? Sì, stanno fissando anche me. Barbie nel mondo reale è impossibile. Se si viene a sapere, accadranno cose assurde nel nostro mondo. Sarebbe catastrofico! Non giochiamo con le Barbie da quando avevamo cinque anni. Nessuno abbia pace finché quella bambola non torna nella scatola. Gli umani prima o poi se ne vanno. Prendetela Barbie! Le idee restano per sempre. No, non le lascio fare solo un'appendicectomia. Ma sono un uomo. Ma non un dottore. Posso sentire un dottore? Io sono un dottore. Mi serve una penna a scatto? No. E una cosa affilata? No. Eccolo lì, dottore. Chiamate la sicurezza. Is Barbie boot if you're still in doubt?